Voglio vivere così Voglio vivere così Con la sola in fronte E felice canto Canto per te E buongiorno e bentrovate carissime telespettatrici Carissimi telespettatori 21 ottobre 2024 Terzo lunedì del mese In cui Rossini TV vi accompagna nella lettura dei quotidiani Come tutte le mattine sfogliando l'edicola Buongiorno Rossini Un lunedì di tregua per quanto riguarda il maltempo Diciamo che l'aspetto meteorologico sta fortunatamente migliorando Come vediamo anche nella carta sinottica Che ci viene presentata dal nostro regista Andrea Sabatini Oggi per lo più tempo asciutto Con annuvolamenti a tratti Compatti alternati a schiarite Le temperature sono in aumento Da tarda a estate E venti deboli e moderati Come vedete Sia durante la mattinata Che nel pomeriggio Un'assenza quantomeno di precipitazioni dopo tanti millimetri di pioggia caduti In questo fine settimana che comunque vi andremo poi a raccontare A relazionare, a farvi vedere con tante immagini Specialmente nell'edizione serale di Rossini News Diamo un'occhiata anche alla webcam Che ci porta questa mattina nella splendida Fano Nella visione dell'arco di Augusto Ancora abbastanza deserta E quindi un bello scorcio storico Quello che ci viene presentato questa mattina E invitiamo anche gli amici fanesi Chiaramente a seguire la nostra rassegna stampa Perché parleremo a lungo anche della loro città Veniamo alle due home page Alle due prime pagine dei quotidiani Il Corriere Adriatico apre con il problema dei bivacchi nel centro storico Abbiamo paura La sottolineatura di commercianti e residenti Che avvertono il timore ogni sera per gruppi disbandati Spesso ubriachi e molesti che stazionano fra il teatro e l'ospedale Una brutta cartolina anche per i turisti La fotocopertina è dedicata allo sport Lo sappiamo, le edizioni del lunedì Sono cariche di notizie sportive La prima pagina se la conquista Il Fossombrone che in Serie D ieri batte nel suo girone L'atletico Ascoli E conquista la prima posizione in coabitazione Con un'altra marchigiana La San Benedettese Pari d'oro della Vispesaro a Chiavari 1-1 male invece la VL Come vedete qui crisi VL Anche Verona ne approfitta e vince Sconfitta in casa la formazione del neoallenatore Spiroleca 73-63 I box sotto la fotocopertina ci ricordano della rapina di ieri Da parte di un bandito incappucciato vestito da pulcinella Pensate Armato di pistola che riesce a far fruttare con la sua rapina Un bottino da 5.000 euro in una sala slot Ponte chiuso rimane quello sulla statale 16 all'altezza di Cristo Re Direzione Fano Quindi anche oggi sarà una giornata difficile Per il traffico e la viabilità Soprattutto per i pendolari tra Pesaro e Fano Mentre un pino si schianta ieri in Viale 24 Maggio Ne fa le conseguenze un'auto che viene completamente distrutta Celebrano i 100 anni alla scuola del libro di Urbino Una vera e propria fucina di artisti E poi l'appello della mamma del ragazzo scomparso 8 giorni fa, mi ricordo benissimo Ne abbiamo dato per primi la notizia lunedì scorso In apertura di Buongiorno Rossini Il dramma purtroppo continua Le ricerche sono andate avanti A vuoto lungo la zona del Furlo E del torrente Candigliano La madre ha disperata Naturalmente poi leggeremo l'articolo Invita il ragazzo a rientrare a casa A dialogare con i propri genitori E l'appello che è già visibile online Su Facebook Verrà poi trasmesso mercoledì Durante la celebre puntata del programma di Rei 3 Chi l'ha visto? Intanto ci sono state due segnalazioni Una a Salerno e l'altra a Pesaro Veniamo invece al Carlino Marche Nella sua edizione ridotta del lunedì Si parte con l'omaggio a Tonino Benelli Ieri vernissage e inaugurazione della statua Sulla rotatoria Posizionata sulla rotatoria di Largo Tremartidi Dedicata al campione e imprenditore Di Pesaro Appunto Tonino Benelli Presente una gran folla Tra cui appunto i parenti del campione La processione della Madonna delle Grazie Folla anche lungo le strade del centro storico Ieri per ricordare la festa del voto In cui la Madonna delle Grazie salvò i pesaresi Dalla terribile epidemia di colera E poi l'intervista al Cesare Magalotti Il primario di senologia dell'AST1 di Fano Che ieri inaspettatamente ha disertato la camminata rosa Che si è svolta lungo le vie del centro storico di Fano Durante la mattina Vi ricordo come sempre di partecipare Di interagire con la nostra redazione Attraverso i vostri commenti Alle notizie più rilevanti Che ritenete opportuna Sia attraverso Facebook Sia naturalmente attraverso la nostra Numero di Whatsapp 370-366-7210 Oppure ci potete anche scrivere Alla nostra indirizzo e-mail Redazione chiocciolarossinitv.it Partiamo dal resto del Carlino L'omaggio a Tonino Benelli Il monumento dedicato al suo coraggio Grande festa, come dicevamo ieri L'opera è posizionata in Largo Tre Martiri C'è stata anche qualche polemica Qualche giorno fa da parte dell'opposizione Che sperava in un posizionamento Della statua invece tra via Belvedere E via Mario del Monaco Basta percorrere qualche metro E la si incrocia in Largo Tre Martiri È rappresentato in piega Come vedete anche dalle fotografie Sulla sua inseparabile 175 Bialbero La scultura è in bronzo E ha una dimensione di circa il 10% Delle dimensioni naturali È stata voluta e realizzata Dal registro storico Benelli Dal motoclub Pesaro Con la collaborazione del Comune E della Benelli QJ Poco prima di svelare l'opera Poi è apparso un Benelli Depock vivo Con una sua motocicletta Proprio una Benelli 175 E sono state poi le nipoti Ilaria, Raffaella e Cristiana A togliere il drappo rosso E a svelare la scultura Presenti oltre al sindaco Anche Brusciotti, Vanzolini Rispettivamente presidenti Del registro storico E del motoclub Benelli Oltre al presidente dell'Asi Alberto Scuro A concludere Paolo Marchinelli Direttore del museo Benelli Ha ricordato come 20 anni fa Venne inaugurato il museo Oggi diventato un punto di riferimento Per tanti appassionati Non soltanto da Pesaro Ma da tutto il mondo Che vengono a visitare Il museo dedicato alle moto E la scultura di Tonino Benelli E chiaramente rappresenta La follia, diciamo così Del capostipite di un'intera generazione Di campioni pesaresi Della motocicletta Ogni riferimento è puramente casuale Parliamo ancora di motori Come vedete le auto d'epoca Invece hanno invaso Dalle due ruote Ci spostiamo sulle quattro ruote Ieri in piazza Ieri mattina Presenti tantissime auto storiche Circa 60 veicoli Che hanno sostato In piazza del popolo Grazie al raduno Dell'Asi Mentre a Palazzo Gradari L'incontro dalle strade bianche Ai borghi marchigiani di oggi Con il turismo lento Del motorismo storico Intervenuto Alberto Scuro Come dicevamo Presidente dell'Asi E Franco Andreatini Autore del volume Pesaro e l'automobile Del Novecento Ci saluta Andrea Tartaglia Bellissima la statua di Tonino Benelli Saluti dal porto Saluti anche da parte nostra Al presidente della circoscrizione Centromare Che ogni mattina ci allieta Con il suo saluto In azione Rapinatore mascherato da Pulcinella Questa è una Sembra un film Invece tutto vero Spiana una pistola E arraffa 5 mila euro È accaduto ieri mattina In una sala di slot machine In Largo Ascoli Piceno Stando ad una prima ricostruzione Il malvivente è entrato Con una pistola Forse giocattolo Pensate Per farsi consegnare tutti i soldi Pochi attimi E si è dileguato Con il bottino Aveva il volto coperto Da una maschera Dal lungo naso I camarabinieri Stanno visionando Il contenuto Delle telecamere esterne E veniamo a Fano Come dicevamo ieri L'iniziativa La Caminata Rosa Che purtroppo A causa del maltempo Si è comunque svolta Ma non ha registrato Le tantissime Le migliaia di presenze Che venivano Contate negli anni passati Comunque in 300 Con i palloncini Hanno sfidato il vento E la pioggerellina Di ieri mattina Per lanciare il messaggio Dell'importanza Della prevenzione Nella lotta Al tumore Tutti Tranne Cesare Magalotti Il primario Di senologia Di AST1 Come vedete Critico con la politica Mi sono stancato Non sopporto più I politici Che abbiamo Certo un'assenza Che ha fatto Tanto rumore Si era già registrata In occasione Della presentazione Di questo evento Messo in campo Dall'amministrazione Comunale Di centrodestra Lo ricordiamo Che Magalotti È comunque Consigliere comunale Eletto Nelle file Del PD Ma Incalzato Dalla giornalista Tiziana Petrelli Ammette Che si è stancato Della attuale Politica E usa Toni Non certo Morbidi Per così dire Mi hanno fatto Vomitare Ormai Dice Magalotti Affano Mi fanno vomitare Gambini Sindaco di Urbino Ha detto Che sono diventato Famoso Quando non sono andato A operare Urbino Magalotti Invece era già famoso E portava la gente Dalla Romagna Urbino Per operarsi La stessa Foschi Ha detto Che hanno comprato La Osna Perché io operassi Urbino Tutte queste cose Mi hanno stufato Mi pare di essere Nella Calabria Di Cettola Qualunque Il celebre film Di Antonio Albanese A me della sinistra Non mi frega niente Metà di quelli di destra Che siedono in regione Erano prima del PC Mi sono adeguato Alla situazione Sono un branco Di imbecilli I marchigiani Io non sono Di ideale di sinistra Sono schifato Dall'atteggiamento Della vostra regione Parole Veramente Che sicuramente Faranno Avranno una eco Nei giorni prossimi E poi andremo Sicuramente Ad approfondire La processione Per le strade Del centro Ieri La Madonna È una delle grazie Protagonista Della festa del voto Lo ricordiamo Che salvò i pesaresi Non c'è bisogno Di ricordarlo Lo sappiamo tutti Correva l'anno 1855 Grazie all'intercessione Della Madonna Pesaro Fu risparmiata Dal colera Nella foto Lo vedete Monsignor Salvucci Alla testa del corteo È quel seme È quel seme di speranza Che è Gesù Presente Nella nostra vita La mattinata È iniziata Alle 7.30 Con il pellegrinaggio Della parrocchia Di Villa Cecolini Fino alle grazie Dove è stata celebrata La prima messa Ufficiata Da Don Domenic Felician Questo Il contributo Del resto Del Carlino Per la Per la rassegna Stampa Di oggi Approfondiamo Ora le pagine Del Corriere Adriatico Andiamo a Vedere Cosa Il Il focus Di Letizia Francesconi Come ogni lunedì Ci presenta Parliamo di sicurezza Parliamo di centro storico Parliamo dei bivacchi Che costituiscono Una immagine Indecorosa Come dice nel titolo E Che incute Sicuramente timore Sia tra i commercianti Che tra i residenti Sono gruppetti Disbandati Spesso ubriachi Tra teatro E ospedale E La piantina Che il Corriere Adriatico Ci propone È esplicativa Delle zone Delle location Dove Questi gruppi Di disperati Principalmente Stazionano E importunano I passanti Come lo vedete Piazzale Lazzarini La zona del teatro Rossini Via Curiel Via delle Contramine Via Oberdan Piazzale Cinelli E davanti Al pronto Soccorso Spesso Hanno in mano Bottiglie di vetro Che E sono un problema Perché alzano La percezione Di insicurezza Deturpando Anche L'immagine Del centro storico E porta sicuramente Meno persone A essere invogliate A fermarseli Nei pubblici esercizi E nei baretti Del piazzale Intervenuta L'assessore Sara Mengucci Con delega Alla sicurezza Dice che verranno Intensificati i controlli Per identificare Questi soggetti Che vivono Ai margini Della città Proprio un paio Di giorni fa Un gruppetto Di sei o più Senza fissa dimora Bivaccava Bottiglie di birra In mano Fra il teatro E il pronto soccorso E le forze dell'ordine L'attitano Forse Questi soggetti Non ci fanno stare tranquilli Dicono i residenti I commercianti Perché di forze dell'ordine Non se ne vedono In giro E poi Anche se sollecitate Spesso Non Intervengono E' chiaro Che abbiano dei problemi Queste persone Che vivaccano Tutto il giorno Specialmente la sera Per cui i commercianti Si rivolgono Al sindaco E alle istituzioni Per cercare Un recupero Anche delle stesse Nel frattempo Fronte sicurezza A breve Arriveranno Finalmente Anche per l'accesso Al centro storico I nuovi varchi Con videosorveglianza Attiva H24 Per blindare Tutta la ZTL Telecamere Che saranno A garanzia Anche di Maggiore Vigilanza Nel frattempo Lo sapevamo tutti Ma il video Apparso poi Su Facebook Lo scorso 19 ottobre Ne ha Rivelato In tutta la sua Essenza La portata E purtroppo La recrudescenza Nuova Piazza Per lo spaccio Nel buio Di via Luca della Robbia Tanto per intenderci Dove c'è il Conad City Dove c'è il Campetto Da calcio A 5 A limitro Al job Come dicevo Il 19 ottobre È apparso Un video In cui si vede Il perimetro Di via Della Robbia I campetti Da basket E da tennis E sotto gli occhi Di tutti Residenti Quartieri Amministrazione Un'attività Che si svolge All'aria aperto Ma nessuno Finora Sembra fare Nulla Quindi non soltanto Il Miralfiore Finisce sulle pagine Delle cronache Basterebbe fare Qualche video Commentano i residenti Per rendersi conto Che alle 8 di sera Sembra di essere Nel Bronx Interviene naturalmente Una delle consigliere Di Fratelli d'Italia In questo caso Serena Boresta La quale invita A prendere provvedimenti Da parte delle forze Dell'ordine E della amministrazione Anche perché Quel gruppetto Di tossicodipendenti Senza fissa di Nora È ben noto Alle forze Dell'ordine Ci sarebbe Una via Per contrastare Il degrado In questa zona Sicuramente sì C'è una piccola casa Utilizzata già Nel frattempo Nel passato Scusate Da associazioni O dal quartiere Dove si organizzavano Attività di benessere O fisiche Se fosse ancora Disponibile Il comune Lo volesse Riprendere in carico Potrebbe essere Una nuova guida Del quartiere Centro Per creare Un polo Di aggregazione Per portare Il degrado Fuori dai Campetti Questa è la proposta Di fratelli d'Italia A nome di Serena Boresta Veniamo alle Immagini Del Maltempo Che ha Flagellato Pesaro Per tutta la giornata Di sabato E anche ieri Mattina Ci sono Quattro Fotografie Che illustrano Anche Le location Maggiormente Colpite Dai danni La prima È il ponte Sul cavalca Ferrovia Che come vedete È rimasto Transennato Ve lo faccio Ve lo indico Con la penna In pratica Quello davanti Alla chiesa Di Cristo Re Che anche oggi Rimarrà chiuso Quindi Attenzione Ma soprattutto Pazienza In quella zona Come sappiamo È trafficatissima È uno dei punti Di approdo A Pesaro Da sud Il traffico Verrà Convogliato Dirottato Su via Colbe Che aprirà A senso A doppio senso Di marcia Poi Il pino Che si è abbattuto Ieri mattina Su via 24 maggio Un boato Incredibile Raccontano i residenti E purtroppo Si è abbattuto Su un'auto Che è andata Completamente Distrutta Evacuato Il reparto Di oncologia A muraglia Costretto A trasferirsi Ben quattro Pazienti Collocati Ad ematologia Mentre Grande attenzione Per il Foglia Che fortunatamente Ancora Resiste Alla Pioggia Nell'arco Di 24 ore Sono stati 150 Gli interventi A cui si aggiungono Quelli della protezione civile E del comune Le località più povose Si sono raggiunti I 79,4 mm In poco tempo Le zone più colpite Monte Granaro Muraglia E Loreto Ricordiamo che anche Il ponte di Loreto Addirittura È stato chiuso A lungo Disagi Al cimitero Biancani Intervenuto Parla di Interventi Risolutivi Non ci vogliamo Illudere Non voglio Illudere i cittadini Che lo facciamo In poco tempo Ma effettivamente Ci sono situazioni Che richiedono Notevoli Investimenti Notevoli investimenti Come quello che richiede Il centro Benelli Che continua A innaffiare acqua All'interno Della piazzetta A causa Della totale Mancanza di Copertura Nel Tetto L'assessore Mila Della Dora Conferma Che comunque La struttura Non è pericolante Sebbene Sia scivolata Il legno È molto appesantito Dice Adesso siamo in attesa Di reperire i fondi 220 mila euro Per rimettere a posto Tutta la piazza Con interventi Risolutivi Speriamo Quello si faccia Presto Perché la situazione Ormai è al limite Della tollerabilità Parliamo di politica L'imbarazzo Che ha creato Il passaggio Di Bartolomei Il consigliere Bartolomei Nelle file Di Forza Italia E il coordinamento Di Pesaro Giovani Pesaro Giovani Che esprime Disappunto Per la presa Di distanza Di Bartolomei Entrato In Forza Italia I giovani Dice Avevamo voluto portare A Pesaro Una proposta Politica Nuova A partitica Mossa esclusivamente Dalla passione Per la città E dal senso E dal senso di responsabilità Nei nostri coetani E Bartolomei È venuto meno Al punto che non ci ha nemmeno comunicato Prevantivamente La sua scelta Di aderire Al partito E siano sconcertati Ragazzi Dalle sue recenti dichiarazioni Sono nato E morirò Berlusconiano Urbino Urbino celebra i cento anni Della scuola del libro Una grande fucina di artisti Con il convegno nazionale Essia Che dà il via libera Alle celebrazioni Essia si occupa di promuovere Le eccellenze artistiche E la scuola del libro Sicuramente lo è In quanto è un punto di riferimento Per tanti giovani Che vogliono formarsi Nel campo Delle arti figurative E la scuola Del libro È un patrimonio Di tutta la città Che porta Urbino In Italia E nel mondo Ieri si è parlato Di tradizione Di innovazione Intelligenza artificiale Sfide per il futuro Che potranno Essere affrontate Al meglio Grazie alla sinergia Con altre istituzioni artistiche Non solo della città Ma del paese Come il liceo artistico Di Porta Romana E di Sesto Fiorentino Nel frattempo Complimenti All'ex rettore Dell'Università di Urbino Vilberto Stocchi Che è stato ieri Nominato Cavaliere Di Gran Croce La massima Onofilicenza Dello Stato Assegnata Per le elevate Qualità personali E professionali Lo ricordiamo Che l'ex rettore Ora guida L'Università Telematica San Raffaele E siamo a Fano Sono le 7.45 Il torrente Arzilla Ha fatto paura Danni enormi Se fosse tracimato Questi L'allarme Nel quartiere A ridosso Della Foce Sui social Sono girate foto Eloquenti Sullo stato del torrente Durante la giornata Di sabato Era turbinoso Gonfio di acqua Fango alto E minaccioso E il comitato locale Naturalmente Impaurito Ha chiesto un'azione Di maggiore sicurezza Specialmente adesso In autunno Dove le condizioni climatiche Potrebbero portare Ad altre continue Frequenti Alluvioni Sotto stretto monitoraggio Altre vie Della provincia La strada Flaminia Lucrezia La strada Per Carrara Per Cerbara Nella zona Di Tavernelle La provinciale 123 Villa Betti E al Cairo Il personale Di Aset Nel frattempo Liberato le caditoie Ostruite Dalle sondazioni Dei corsi D'acqua minori A Fano Sud E nella zona Di Gimarra Stessa Analoga Situazione A Marotta Case allegate L'aiuto Dei volontari Fino a notte Inoltrata I residenti Esasperati Basta Ogni volta Che piove Siamo sommersi E ora Di trovare Delle soluzioni Questo sia A Marotta Nord Che via Corfu Vicino Alle scuole E i residenti Hanno dovuto Ricorrere All'aiuto Delle squadre Delle associazioni Di volontariato Per poter salvare Il salvabile Nei garage Negli scantinati Alzando le paratie Di fronte Alle porte D'ingresso Per contenere I danni Come vedete L'intervento Dei volontari In soccorso Dei residenti A Marotta Nella fotografia E veniamo Alla vicenda Del ragazzo Scomparso Ad Acqualagna Ve lo ricordo Era lunedì scorso Quando Nedemmo In anteprima La notizia Leggendo appunto Il giornale L'appello Della mamma Distrutta E la capiamo Benissimo Federica Pambianchi Insieme al papà Tommaso Branchini Distrutti dal dolore Per la mancanza Di notizie Di Riccardo Devi stare tranquillo Mamma sarà sempre presente Ti puoi fidare Torna a casa Ne parleremo Questo L'angosciato appello Che è visibile Sui social E che verrà trasmesso Anche mercoledì Durante la puntata Di chi l'ha visto Su Rai 3 Lo ricordiamo Cinque giorni di ricerche Nei pressi Della diga Del Candigliano Con sommozzatori Droni Squadre di terra Strumentazione tecnologica Più avanzate Di Riccardo Nessuna traccia Quindi gesto estremo Oppure proprio Un segnale Di cambio vita Con depistaggio Nel frattempo Arrivano Le segnalazioni Una è giunta Da Salerno Una signora Ha visto Un ragazzo Con la parrucca Lo ricordavamo Che Riccardo Si era tagliato Invece i capelli Pochi giorni Prima della scomparsa Probabilmente I capelli lunghi Sono appunto Facilitati Dall'utilizzo Appunto Di una parrucca E le stesse sembianze Poi Sono state Individuate Da una coppia Di fidanzati In un centro commerciale Di Pesaro Comunque Queste segnalazioni Sono attentamente Valutate Dalla forza Dell'ordine L'arte Premia I meriti sportivi Questa sera Gran Galà Al Palace Allende Previsti Riconoscimenti A 16 atleti E 9 società Mentre ieri mattina I soliti incidenti A Fano Carambola Contro due mezzi Grave Un motociclista In Viale Primo Maggio È dovuto intervenire L'eliambulanza Per il trasporto A Torrette Maestri Scalpellini Interpreti Della settimana Della cultura Ci spostiamo A Sant'Ippolito Che aderisce Al progetto Di Pesaro Capitale Da oggi Fino a domenica Sarà All'interno Di 50 per 50 Capitali Al quadrato Un paese Museo A cielo aperto Dove ad ogni angolo Trapela L'abilità Dai maestri Scalpellini Che nel 300 Arrivò ad ammaliare Anche i papi Che li vollero A decorare Il palazzo Di Avignone Durante la cosiddetta Captività Avignonese Quindi Tutti a Sant'Ippolito Per Godere Dei 30 E più eventi Che animeranno Il paese Durante questa Settimana E ieri invece Secondo weekend A Pergola Con la fiera Del tartufo Premiato L'amministratore Delegato Del aeroporto Di Falconare Alexander Dorsogna E il Tg regionale Marche Con la collega Nicoletta Grifoni Era questa L'ultima notizia Adesso Immergiamo Ci sono le 7.50 Nella lunga Pagina sportiva Del lunedì Vorrei iniziare Con la VL Quindi Iniziamo Con una notizia Non certo Piacevole La VL Che non si scuote Purtroppo Terza Sconfitta Di seguito Anche il cambio In panchina Con il terzo Allenatore Che si è seduto Sulla panchina Biancorossa Ovvero Spiroleca Dopo L'interregno Di Baioni E l'addio Di coach Sacripanti Nulla da fare Contro Verona Arriva la terza Sconfitta Di fila Poca energia Difesa Rivedibile Concessa Una marea Di seconde Opportunità Agli avversari Così scrive Mirko Facenda Nel suo editoriale La VL Costretta A rincorrere Sale A meno Due Ma la Tezenis È più lucida Nei momenti Clou La classifica Non è Delle più rose Come vediamo Per le aspirazioni E il blasone Di Pesaro Quattro punti In sei partite Non è un bottino Esaltante Certo direte voi C'è chi sta peggio Ma c'è anche Chi sta molto meglio Come vedete Rimini e Cantù In prima posizione Ahmad dai due volti Parrillo Cerca di dare La scossa Queste le Paggelle Di Mirko Alla Nostra squadra In bro Così proprio non va King Un'altra prova Inconsistente In attacco E veniamo Alle parole di Leca Prima di affidarci Alle parole Dei nostri tifosi Avevamo le scorie Di Forlì Il coach Analizza la sconfitta Abbiamo affrontato Un avversario Di qualità Costruiti Due tiri aperti Con King Che non sono entrati La Tezenis Ha preso Il largo Approfitto per leggere Anche il commento Di un nostro tifoso Amico E illustre Conoscitore Della palla spicchi Biancorossa Roberto Tobassoli Urgono provvedimenti Dalla società Al più presto Dopo una brutta retrocessione Come tifosi Non meritiamo Questa difficile situazione Forza VL Sempre Noi siamo Pesaro Questo è il commento Di Roberto Che approfitto Anche per salutare Sparta Piange Invece Atene ride Atene Nel senso di Vallefoglia In campo Il ciclone Megabox Busto Arsizia Spazzata Via Vallefoglia Bagna L'esordio In casa Con un inno Ufficiale Che invito tutti Ad andare Ad ascoltare Netto 3 a 0 Grazie A una prova Di qualità E la classifica Si accorcia Dopo tre giornate A sei punti Come vedete Ho evidenziato Nel box Si riducono le distanze Con le prime In classifica A proposito Di prime in classifica I nostri complimenti Vanno al Fossombrone Che ieri Ha sconfitto L'atletico Ascoli Parliamo Del campionato Di serie D Di calcio E vola in vetta La squadra di Fucili Vince il secondo derby Consecutivo Lo ricordiamo Domenica scorsa Aveva espugnato 3 a 0 Il campo di Civitanova Quindi non si può Adesso solo più Parlare di Meteora Viene affiancata La San Benedettese In cima Alla classifica Parla Mister Fucili Che ringrazia I suoi ragazzi Per l'ennesima prestazione Maiuscola In una gara Non facile Quando si gioca così Ghi applausi Ci stanno Sono meritati E continua a fare Il pompiere Il mister Ogni settimana Non montiamoci La testa È chiaro Che deve dire Queste parole Però Come vedete Anche il folto pubblico Che ringrazia I biancoazzurri Al termine Della partita Adesso L'imperativo È concentrarsi subito Per la sfida Di mercoledì Al Tubaldi Di Recanati In effetti C'è il Turno Infrasettimanale Per il campionato Di Serie D Andiamo a vedere Anche la classifica Guardate quanto è bella La classifica Del Fossombrone In prima posizione Insieme Alla San Benedettese E come vedete Mercoledì Si va a Recanati La Recanatese Ha sei punti Esistono nove punti Di distacco Tra le due squadre Qualcosa Vorrà pur dire Chiudiamo Con la vispesa Lo siamo andati A ritroso Di quello che è Il nostro Scaletta Tradizionale Un pari d'oro In Liguria Guardate come sono belle Queste immagini Guardate come è bella La divisa multicolor Della nostra Vispesaro Sono alcune delle immagini Di questa Bella prova Dei ragazzi Di Stellone In Liguria Ragazzi In vantaggio Con Coppola Raggiunti Ma hanno sfornato Una prova super Lo ricordiamo Che la Virtus Sentella È una delle favorite Nel girone A compiere il salto Di categorie Tornare Tornare In Serie B Partita combattuta In cui Coppola Bove E Di Paola Si prendono Tutti gli applausi Del caso Questo è nel commento Di Andrea Cella Da rivedere Invece il portiere Soprattutto Sulle uscite Alte C'è stata qualche critica Soprattutto in occasione Del gol Subito Complimenti a tutti Il tecnico Della Vis Elogio ai giocatori Bravi a rispondere Colpo su colpo Forse potevamo Sfruttare meglio Qualche ripartenza Ma lo spirito Mostrato È quello giusto Stiamo elogiando La Vispesaro Che comunque Ha ottenuto Il quarto pareggio Consecutivo Per Che fa mantenere La squadra Ai limiti Della zona Playoff Andiamo a vedere Infatti La classifica La Vispesaro Ha come vedete 13 punti Nel girone B Di Serie C Quindi proprio A ridosso Delle squadre Che parteciperanno Al playoff Direte voi È prestissimo Per valutare La classifica E effettivamente Anche l'anno scorso Si era partiti Molto bene Per poi arrivare Con il fiatone All'ultima giornata All'ultimo minuto Lo sappiamo Benissimo L'appuntamento È sabato Al Benelli Alle 20.30 Vispesaro Carpi Mi correggo L'appuntamento È Venerdì sera Venerdì sera 25 di ottobre Era l'ultima notizia Del Corriere Adriatico Della nostra rassegna stampa Di Buongiorno Rossini Vediamo Andrea Cosa ci propone Il palinsesto Si parte Con la settimana Di Sant'Ippolito Che ho appena citato Capitale al quadrato Alle 8 Poi alle 13 Alle 20 Nell'ambito del magazine La natura Della cultura Poi abbiamo La partita Di ieri Carpegna prosciutto Contro Scaligia La Verona Per chi non Avesse avuto L'occasione Di assistere Al Palace La riproponiamo Lo ricordiamo Rossini TV È la tv ufficiale Della Carpegna prosciutto Basket Pesaro Quindi per tutti Gli appassionati La possibilità Di rivedere La partita Dei ragazzi Di Leca Questa sera Alle 21 Chiudiamo Con L'informazione Che torna In diretta Alle 19.30 Come tutti I giorni La replica Alle 20.30 Alle 23.30 E a mezzanotte E mezza Con il nostro Rossini News E la redazione giornalistica Della nostra emittente Impegnata oggi A informarvi Sui fatti Che Si verificheranno Nella nostra città E nella nostra provincia Sono le 7.58 Vi lascio Ora Al meteo E non mi resta Che augurarvi Una bellissima giornata Una bellissima settimana E come sempre Non cambiate canale Restate Sintonizzati Sull'80 Di Rossini TV Sintonizzati 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 Unowo Tก Sintonizzati Voglio vivere così, col sole in fronte, è felice e canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Voglio vivere così, col sole in fronte, è felice e canto, canto per te.